L'Europa sta fronteggiando la crisi dei migranti, qual è lo scenario futuro? Lo scenario futuro dovrebbe essere lo scenario di oggi perché è evidente a tutti e prima l'Italia era la sola a dirlo che o l'Europa si assume le sue responsabilità nel gestire i flussi migratori, nel controllare le frontiere con la Polizia Europea, nel redistribuire l'onere dei rifugiati tra tutti i paesi europei e nell'organizzare i rimpatri di chi non ha diritto di stare in Italia oppure saremo destinati a subire unicamente i flussi. Le risposte nazionali sono illusorie, chi vuole rispondere con i muri e i fili spinati prende in giro i suoi cittadini e nega i grandi valori dell'Europa, la risposta deve essere quella di nuove politiche europee. Il tempo non c'è più, bisogna rispondere immediatamente e bisogna lavorare anche con dei grandi paesi vicini a noi come la Turchia che sono esposti e attraverso cui passano i flussi e questo sarà l'impegno che il Presidente del Consiglio si assumerà nel summit che avrà luogo a Bruxelles il 7 marzo proprio col Primo Ministro turco.